Nella lotta alle mafie certamente le istituzioni possono fare molto, però forse è anche giusto chiedersi cosa posso fare io contro le mafie? Cosa può fare colui che non ha un particolare ruolo istituzionale o politico? Cosa può fare colui che non è né magistrato, né poliziotto, né parlamentare, colui che magari pensa di essere condannato in un certo senso alla parte di spettatore o nei migliori dei casi alla parte di tifoso? Ebbene ci siamo sentiti porre questa domanda numerosissime volte, per questo abbiamo deciso di cercare di dare una risposta più chiara attraverso cinque semplici azioni che ogni cittadino può attuare ogni giorno contro le mafie. Si tratta di alcune semplici azioni nate un po' dalle nostre riflessioni, nate un po' da ciò che abbiamo imparato in questi anni, ma siamo ovviamente aperti anche ai vostri suggerimenti e alle vostre proposte. Queste cinque azioni contro le mafie servono anche per smettere di lamentarsi soltanto, anche per smettere di delegare sempre agli altri. Le forze dell'ordine, la magistratura svolgono un ruolo sicuramente fondamentale, però secondo noi non è sufficiente, occorre anche il nostro impegno attraverso semplici gesti che possono però creare seri problemi alle organizzazioni criminali, perché le mafie sopravvivono anche grazie ai nostri silenzi e alla nostra indifferenza. A questo proposito, negli ultimi anni Falcone e Borsellino ci sono stati presentati troppo spesso come degli eroi martiri solo da commemorare e da piangere ai funerali. Quest'immagine secondo noi è fuorviante, Falcone e Borsellino non sono degli eroi, sono degli uomini, degli uomini che facevano il loro dovere, morti da uomini liberi. Chiamarli eroi si sposa con il distanziare il nostro percorso dal loro, si sposa con la deresponsabilizzazione del cittadino, si sposa con il delegare agli altri. Per questi motivi, come redazione di cortocircuito, web tv e giornale studentesco di Reggio Emilia e come gruppo Giovani a Reggio Emilia contro le mafie, abbiamo realizzato negli ultimi quattro anni cortometraggi, videoinchieste, interviste e numerosi eventi antimafia per cercare di sensibilizzare la cittadinanza sulla presenza delle mafie nella nostra città e per invitare i più giovani, i nostri coetanei, ad uscire dall'indifferenza. Ecco le nostre cinque azioni. Prima azione, informarsi in modo critico. Informarsi ed informare è fondamentale. Se non si conosce un fenomeno non si è in grado di fronteggiarlo e di combatterlo in maniera adeguata. Tuttavia non è sempre facile. I media sono spesso influenzati da molteplici aspetti di convenienza editoriale e politica e la stampa tende in diversi casi a derubricare probabili atti di mafia, a semplici atti di vandalismo o a fenomeni elettrici. Per questo è importante, oltre che informarsi di più, informarsi da più fonti. Solo in questo modo ci si potrà formare un'idea più veritiera possibile su un determinato fatto. Solo informandovi da più fonti potrete essere giornalisti di voi stessi. Infine c'è da dire di non prendere nulla come oro colato. Dal servizio del telegiornale, all'articolo sul quotidiano, al video su YouTube. Insomma, siate curiosi ma anche dubbiosi. Seconda azione, consumare in modo critico. È possibile acquistare i prodotti che provengono dalle terre confiscate dalla mafia, gestite da cooperative sociali di agricoltura biologica e riunite a livello nazionale da libera terra. Questo è un fattore importante perché le terre una volta confiscate vengono abbandonate. Questo determina una disfatta per lo Stato perché spesso i cittadini si sentono in diritto di dire meglio quando c'era il mafioso. Inoltre ricordiamo che è possibile acquistare i prodotti anche nei negozi che aderiscono a Dio Pizzo, anche al nord. A Milano, secondo i dati della direzione distrettuale antimafia, sarebbero ben 5.000 i commercianti che pagherebbero il pizzo. Consumando in modo critico è come se andassimo a votare ogni volta che facciamo la spesa. E' importante anche ricordare che ci vuole maggior cautela nel caso di pizzerie, ristoranti, negozi e imprese, nati improvvisamente e con un evidente impegno di grandi capitali. Perché non sono pochi i casi in cui, anche nel nostro territorio, ci si è imbattuto i luoghi coinvolti in azioni di riciclaggio di denaro mafioso. Infine, anche se può sembrare scontato e anche se molte volte non è un fatto legato alle mafie, bisogna sempre farsi fare lo scontrino perché diversi commercianti si dimenticano di farlo. Terza azione, partecipare al voto. E' importante perché se non lo si fa si lascia la possibilità agli altri di scegliere per noi. Spesso le mafie offrono i propri pacchetti di voti, dalle elezioni comunali a quelle europee. Ricordiamoci quindi di partecipare a qualsiasi tipo di votazione, incluse quelle referendarie. E soprattutto di scegliere i candidati puliti, perché la mafia non è né di destra né di sinistra e spesso punta sul cavallo vincente. Esprimere quindi la propria preferenza è fondamentale, perché meno cittadini utilizzeranno il proprio voto di preferenza, più sarà alta la possibilità per pochi elettori vicino ad organizzazioni mafiose di fare entrare, ad esempio in un consiglio comunale, i propri candidati. Quarta azione, non accettare scorciatoie. Per combattere le mafie bisognerebbe imparare a dire di no alle tante scorciatoie che la vita offre ogni giorno, ai favori e alle raccomandazioni, preferendo al puzzo del compromesso morale il fresco profumo della libertà, come aspicava il giudice Paolo Borsellino. Quinta azione, denunciare e partecipare. L'indifferenza è compromesso, il silenzio degli onesti è il pericolo maggiore che ci sia per la democrazia. Noi crediamo che ogni cittadino debba fare la sua parte contro i radicamenti mafiosi nella nostra città, perché come dice il secondo paragrafo dell'articolo 4 della nostra bella Costituzione, ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. L'articolo 4 della nostra Costituzione in sostanza ci dice che l'indifferenza è incostituzionale. Inoltre chi lavora in istituti di credito, che è notaio, che è proprietario di immobili, imprese, aziende, può fare di più. Ci siamo spesso chiesti come si comportino questi cittadini quando si accorgono che il denaro trattato potrebbe essere frutto di reati di mafia. Vogliamo credere che sceglierebbero di perdere un cliente, un lavoro, di vedere sfumare un affare, ma con la soddisfazione di aver dato un contributo al prevalere della società degli onesti su quella dei criminali. Attenzione però, è sufficiente che siano indifferenti alla provenienza dei soldi perché il risultato è esattamente l'opposto. Adesso non abbiamo più scuse, non possiamo più dire non lo sapevo, perché solo il coraggio degli onesti può riaccendere la speranza capendo che con le mafie non può esserci futuro. Aspettiamo i vostri suggerimenti e le vostre proposte per migliorare insieme queste 5 azioni. Grazie. Grazie.